Allora, test di registrazione video in notturna, Lumia 920 e iPhone 5. La ripresa contemporanea, la mia mano trema come al solito. Vediamo come funziona lo stabilizzatore e come si comporta in una situazione di bassissima luce, veramente molto bassa. Sto riprendendo ovviamente contemporaneamente con entrambi, proviamo a fare un po' di movimenti. Ok, ciao!